...del collegio anticipi quella che sarà la motivazione dell'attentazione. Da poco le canali, Franco Coppio, il suo persiglio delle scuole nel processo di legge, si dice sorpreso e per presso, non solo per la forma, l'intervista al processo dove finisce le situazioni non ancora depositate, ma anche per il medico. Questo sono un'attività di essere sfruttato, i diritti che avevano segliato piani di avvolgamento e di tempo, erano testi nomi in quale avevano confermato, che non ha nessuna interferenza e nessun suggerimento da parte dell'onorevole Berlusconi. Ecco che siamo rimasti molto meravigliati in apprendere che invece la ragione per la quale è stata confermata la presenza sarebbe nel fatto che esisterebbero prove di una conoscenza da parte di Berlusconi di questi fatti di legge. L'intervista non rinficia comunque il verdetto, non può cambiarlo, ma la forza è l'ipotesi di un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Unione Europea. Sì, vedi, 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 vedi. Grazie. 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 Grazie.